La carta PostPay Evolution è una carta per pagata che presenta un codice IBAN con bollo annuale di 2€, al contrario delle carte PostPay Standard e PostPay Junior che non necessitano di nessun tipo di pagamento annuale in quanto non presentano un estratto conto annuale. Molti utenti sono rimasti sorpresi dopo l'addebito di 2€ sulla loro PostPay Evolution. Ovviamente non si è trattato di un errore o di un malinteso, ma una vera e propria tassa che tutti i proprietari della per pagata devono rispettare, pagando il prezzo di bollo che si era concordato durante la sottoscrizione. Un fattore molto importante, spesso sottovalutato, in quanto le persone che hanno deciso di richiedere alle poste la propria PostPay Evolution avrebbero dovuto leggere il foglietto informativo dove era presente la nota che chiariva ai sottoscriventi questa imposta di bollo, ma che è di notevole importanza. Ma che è di notevole importanza. Ricordare inoltre che l'imposta di bollo non è la stessa che si deve pagare, del prezzo di 34,20€, quando si superano i 5.000€. La PostPay Evolution è la sola carta firmata a poste italiane che presenta un bollo annuale, in quanto è l'unica che offre un estratto conto e l'opportunità di ricaricare la carta con un codice IBAN. L'unica consolazione è che il bollo va pagato solo una volta, in quanto l'estratto conto ha una durata annuale. La carta prevede un minimo di giacenza pari a 77,40€. Ogni anno, chiunque abbia caricato sulla carta un minimo di giacenza pari o superiore a 77,40€, è obbligato a versare una quota pari a 2€ per il bollo. Non sono esonerate nemmeno le persone che hanno richiesto la carta una sola settimana prima della fine dell'anno. e abbiamo la prepagata con un importo superiore alla giacenza minima. L'imposta verrà automaticamente scalata durante i primi giorni di gennaio dal vostro conto post-pay. Cosa succede se il mio credito è inferiore a 2€ oppure nullo? Se il tuo saldo, nel momento in cui verranno scalati i soldi, sarà minore o pari a 0, verranno debitati 2€ e il tuo saldo assumerà un valore negativo. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento. Ci vediamo al prossimo video.